mi commuovo sempre quando ascolto il coro di pescasseroli guidato e diretto da anna neri oggi in tempo di paura e di dolore mi commuove più che mai ascoltare in remoto le loro voci che propongono un saluto dolce e interrogativo al mondo mi dispiace essere stata bloccata a roma in un periodo che avevo programmato di essere in montagna con voi al carissimo coro decima sinfonia mando un abbraccio virtuale più che affettuoso e con loro a tutti i cittadini di pescasseroli che mi stanno molto molto cari un saluto da ciamareini a a a a a a a a Un'altra, un'altra. Ma ese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia e l'abbandono, niente, sola, tua malattia, paese mio che lascio in largo di là. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Che sarà, che sarà, che sarà. Amici miei sono quasi tutti via, e gli altri volte l'anno dopo me, e quando per te stavo bene il loro compagno, ma tutto passa e tutto sveglierà. Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Amore mio ti bacio sulla bocca, e fu la fonte del mio primo amore. Te do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Tu mi porto la chitarra e se la notte piangerò, una neglia di paese suonerò. Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Che sarà? Che cosa deve avere? E sarà? Che sarà? Che vai da la mia vita? a quel che sarà